I Carabinieri del Ross hanno perquisito l'abitazione della madre di Andrea Bonafide, il geometra che avrebbe prestato la sua identità all'ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro. L'appartamento è stato messo sotto sequestro. Si trova al pian terreno di un fabbricato a pochi metri in linea d'aria dal secondo covo del bosso scoperto ieri a Campobello di Mazzara e pare fosse disabitato da tempo. Intanto nell'aula bunker di Caltanissetta è stata rinviata al 9 marzo l'udienza del processo a Messina Denaro per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Lo ha stabilito il presidente della corte d'assise Maria Carmela Giannazzo per consentire al difensore di essere presente. Il boss che ha nominato come legale di fiducia la nipote Lorenza Guttadauro ha rinunciato al collegamento in videoconferenza dal cacere dell'Aquila dove si trova detenuto a causa della sua prima seduta di chemioterapia a cui è stato sottoposto all'interno del penitenziario. Dopo l'interrogatorio di garanzia al carcere Pagliarelli di Palermo è stato invece convalidato l'arresto a Giovanni Luppino. Luppino che avrebbe accompagnato il boss nella clinica privata il giorno della cattura ha negato di conoscere la vera identità di Messina Denaro.